Benvenuti ragazzi e benvenuti con il nostro prossimo video con la commissione dell'ordine che parla oggi siamo con Bess e siamo con un ospite speciale Andolio007 saluta allora ciao a tutti ragazzi adesso andiamo a fare una partita io contro di lui si gioca mi raccomando iscrivetevi tutti al mio canale andolio007 vi lasciate un mi piace a questo video lasciate like, condividenze tutto questo allora vai si parte come manca tutto io adesso lo ho installato ho una squadra di merda però io ti faccio il gol vai Ronaldo Ronaldo tende il tiro dai 30 metri gol come avete visto la mia squadra Ronaldo sblocca la partita col numero 11 non so perché ce l'ha però numero 11 Cristiano Ronaldo iniziamo bene la partita mi sto facendo i replay l'hanno lasciato troppo libero e passano in vantaggio sono partiti fortissimi dobbiamo spazzare perchè sono bastardissimi marchizio non è male che tu hai una squadra di merda non è male che tu hai una squadra di merda l'ho 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 scoperto il l'ho potete vedere la sua l'ho 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 andiamo a stracciare Antonio 007 faremo soltanto una partita perchè la partita dura tanto solo una partita giusto non voglio fornare in verità percmi adesso si gioca l'ho adesso si gioca sul serio Quei due gol erano di riscaldamento Eh, uno si deve riscaldare Piché Stoppa l'azione Casemiro Di conquista palla Piché, spazza Non dico, ma forte e forte Non può darsi Portiere, non fare cazzate Portiere, non uscire Ma che cacchi Ma non gli pensi Portiere Adesso andiamo a vincere questa partita Oh, pallo Oh, pallo Non arriva sul pallone Rimane in aria In aria Piché, ecco Piché Che riconquista palla Piché, ecco Piché E' una buona azione Buonissima azione Piché, ecco Piché 3 a 0 Oggi Napoli Supercarico Questo video Voglio almeno 5 like Piché, ecco Piché Mamà Vabbè, ecco E sono tre E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori E' incredibile E' incredibile come sia sempre Nel posto giusto Però ci stai tu che mi fai guardare Piché, ecco Piché Non prende la punizione Tieni, tieni Fine primo tempo 3 a 0 Abbiamo visto un Napoli Super bravo Faccio un bigliardino Ho chiamato un bigliardino E' una domanda a mio fratello È che, scusate per il rumore ma siamo aglustrando Un po' di riso Ok Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco questo è un nuovo mondo che colosso raga crossbar challenge crossbar challenge crossbar challenge era pure uscita dalla porta gol crossbar ma io volevo rivedere il replay vediamo il replay se io volevo vedere il replay se era golo no? è il Napoli super bravo in questa partita perchè la Lazio fa un po' schifo picchier recupera il pallone davis sta nel passaggio centrante a superare la difesa Ronaldo, Marta, Marta non mi prendeva la palla mi giuro il giocatore dormiva Iago Aspas figo Iago Aspas stende il tiro gol 4-0 con un passaggio suba si è giunto non si sono fatti in più fatti so su ma si intanto stai perdendo 4-0 grazie la mia squadra oh merda uno spettacolo che non vorremmo vedere ecco cristiano ronaldo risultato ormai assolutamente impossibile che stiamo facendo lì e niente noi siamo proprio bravi belli a giocare piguet le copie del pallone spazia Subasic e la Lazio muta è fuori gioco un'azione è stata aveva superato pure il portiere un altro luogo eh però almeno ci stavo provando si a fare cosa a cagare è tutta colpa dell'altro che no faccio un luogo si in difesa per il portiere eh bravo Piqué con la roba passai Aguaspas Cristiano ronaldo non riesce a recuperare il pallone perché una pippa anche se ha fatto 4 golli a me Rodriguez scatta verso il pallone ok va a cagare va a cagare va a cagare va a cagare ma va a cagare ma va a cagare ma va a cagare no col te con la bandiera ci stai ma io hai capelli fuoxicano va bello va bello il nodo i mameli i papeli venga il gol, vabbè il gol vabbè vabbè raga bellissima la torre bellissima non schifo vediamo il mio prego figo mettiamogli le gambe ragazzi posso mandare il giottinato tanto il tiro laggato sul tiro i passaggi non li parano vediamo il replay era tutto allagato però sarebbe stato un gol davvero bellissimo come dice Fasic si è fatto passare 4 gol anche 5 6 sono in testa ma non lo so davis quando è brutto è bruttissimo però il gol è stato bellissimo calcio d'angolo 6 a 1 ragazzi 6 a 1 hai segnato dal calcio d'angolo me ne ho accorto non ci vuoi proprio tu no a me mi è uscita la schermata il video vedrai perché la prima volta si la prima volta no perché ho cambiato la squadra quando ho cambiato la squadra quando ho cambiato la squadra quando io avevo 20 anni no quando avevo Tibala no no campania non nascevi no non ero che ho detto Golasso, Cristiano Ronaldo, 7 a 1, Napoli super carico in questo San Paolo. Il Lazio non si trova. No, il Lazio. Non si trova quasi nel campo dei caffoni, quindi non si trova. Sì, sì, sì. E dopo facciamo un'altra partita. E no, dopo il video è stato diventato. Sì, sì. Olympic now. Eccolo, eccolo, eccolo. Sì, spalla e spalla. Spalla e spalla. Spalla e spalla. Picchè recupera palla. Recupera palla dopo lo spalla e spalla. Luigi fa un po' cagare. Seguitelo tutti. Di Luigi 05 su Instagram. Lui che fa le scorreggie. Si chiama Di Luigi 05. Seguitelo su Instagram. Seguite anche me, Lorenzo delle donne. E seguite Antonio 007. Che si chiama Antonio di Bala 10. Terminazione partita in corso. Ma proprio così. Questa partita è stata abbandonata per via di un errore. E verrà registrata come una vittoria a tuo favore. Eh, sta cominciando 7 a 1. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto. Ciao. Ciao.